Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina oggi è sabato 2 luglio 2022 il buongiorno da parte mia e da parte di Pietro Baldassarre in regia si sta concludendo la 26esima settimana di questo 2022 siamo praticamente a cavallo della metà perché 183 giorni ci siamo lasciati alle spalle e 182 ne mancano per chiudere questo 2022 oggi al di là della ricorrenza di Sant'Ottone al cui comunque facciamo gli auguri di buono nomastico è una giornata importante per Teramo perché si celebra la Madonna delle Grazie e dopo anni la festa torna nel pieno delle sue attività e questa sera con i tradizionali fuochi d'artificio anche per concludere in maniera degna questa ricorrenza molto sentita qui in città a Teramo la rassegna stampa in questo appuntamento con Di Prima Mattina e poi alle 9 la trasmissione a colazione questa mattina saremo a Bellante con Flavio Pistilli direttore tecnico di Fare Arte parleremo dell'attività ma soprattutto dei saggi che ieri sera e domani sera interesseranno appunto questa importante associazione tutto tondo con diverse persone interessate partiamo subito con la rassegna stampa e con il quotidiano Il Centro il titolo d'apertura ricostruzione e sostegni alle imprese a Teramo il commissario Legnini firma ordinanze per assegnare 700 milioni sotto la testata si torna a parlare in maniera importante di Covid perché tornano a salire i contagi in Abruzzo si fa sentire l'effetto di Omicron 5 record di guariti che si riammalano superata quota 5.000 per quanto riguarda l'aggiunta regionale pandemia e siccità fondi a famiglie e agricoltura la cronaca tragico schianto in Svizzera Bruzzese muore in moto a 27 anni e si tratta di Alessandro Dorigo 27 anni di Ortona morto in un uccidente in moto nel canton Schaffus in Svizzera sentenza a Teramo poste rapinate il dipendente non deve risarcire la fotonotizia partono i saldi 60 giorni di sconti in Abruzzo da oggi acquista risparmiando i 10 consigli utili e poi andremo ad approfondire per le pagine degli spettacoli nell'inserto dell'Aquilone Carlo Verdone oggi a Pescara premio Flaiano per la narrativa Teramo bocciato la serie C è lontana ovviamente c'è un ampio rimando allo sport calcio la Covisocca respinge l'iscrizione dei Biancorossi la società prepara il ricorso e poi approfondiremo anche questo discorso i fondi del PNRR da Teramo ai progetti del CNR un 37enne ricercatore alla guida di un piano da 32 milioni Roseto una diffida al comune per bloccare l'antenna e poi ancora Silvia Dio allo storico imprenditore Vallescura aveva 86 anni entriamo nelle pagine interne del quotidiano il centro e ovviamente le prime pagine sono dedicate ai saldi in Abruzzo partono le vendite scontate da oggi 60 giorni di saldi estivi i 10 consigli per evitare truffe come distinguere i veri affari oppure restituire in tempo un capo d'abbigliamento con difetti la regola dei tre prezzi resta quella principale i prodotti debbono riportare il prezzo originario la percentuale di sconto sul costo normale e quello finale scontato c'è un decalogo con 10 punti da seguire nelle pagine interne appunto del quotidiano il centro gli specchietti per le allodole è meglio diffidare dagli esercizi commerciali che applicano i per sconti cosa rischiano i commercianti sanzioni da 516 a 3098 euro se non rispettano gli obblighi previsti servono ancora e cosa sperano i negozianti rispondono Tiberio di Confcommercio e Legnini di Confesercenti per noi sono ancora importanti stop ai vantaggi dell'online le grandi piattaforme e il problema delle tasse e sono intervenuti appunto Marisa Tiberio di Confcommercio e Lido Legnini di Confesercenti in merito appunto ai saldi ma ovviamente nelle prime pagine si parla anche di covid reinfezioni a quota 5.000 pandemia in Abruzzo negli ultimi sette giorni record di guariti che si riammalano la giunta regionale covid essiccità via i nuovi aiuti oltre 11 milioni per l'emergenza virus e 860 mila euro per l'acquisto di autoclavi il sostegno all'agricoltura nella lunga lista dei contributi anticrisi compaiono anche aziende che producono vino, latte e miele l'esecutivo gioca d'anticipo ha già approvato inizio estate il documento di economia e finanza da inviare al consiglio per quanto riguarda in Abruzzo si parla ancora di pensioni e la guida utile ape sociale domande entro il 15 chi ne ha diritto e quanto prende permette l'uscita dal lavoro anticipata a 63 anni ma i requisiti richiesti dall'Inps non sono pochi li elenchiamo tutti a partire dallo stato di disoccupazione recente e l'avere 30 anni di contributi i lavori che hanno il diritto la lista comprende anche gli artigiani i docenti e i muratori il bonus di 200 euro è partito quando si rischia di restituirlo questo per quanto riguarda l'aiuto alle famiglie appunto sul Codiano il Centro c'è tutto spiegato nei minimi dettagli ancora per quanto riguarda il Quotidiano il Centro le pagine interne andiamo alle pagine dedicate a Teramo la ricostruzione gli incentivi delle PNRR post-sisma sostegni alle imprese pronti 11 bandi per i 700 milioni la cabina di coordinamento approva le misure per finanziare piani di rilancio economico e sociale il commissario Legnini attiviamo strumenti decisivi per attrarre investimenti nei territori feriti in Abruzzo sorgerà un centro di ricerca e alta formazione su sicurezza e tecnologie nel settore agroalimentare entro metà luglio saranno pubblicati gli avvisi con i tempi di presentazione dei progetti da finanziare il progetto c'è il via libera al recupero delle traverse dei tre corsi questo per quanto riguarda appunto la città di Teramo e poi ancora una via per ricordare lo scrittore Mario Pomiglio nel capoluogo ambientato il romanzo La Compromissione gli sarà dedicato lo slargo di Via Paladini rapina le poste il tribunale il dipendente non ha colpe la società gli aveva chiesto un risarcimento di 109 mila euro accusandolo di non aver chiuso la cassaforte per il giudice l'apertura giustificata dallo svolgimento delle operazioni di contabilizzazione del denaro questo c'è la battaglia legale in corso appunto e questa è la sentenza violenza in famiglia botte alla moglie davanti ai due figli piccoli rinviato a giudizio vertenza case di riposo vertice dal prefetto ha convocato un incontro per la prossima settimana 200 lavoratori da mesi sono senza stipendi e qui vediamo nella foto appunto il prefetto Massimo Zanni oggi gran finale della festa della Madonna delle Grazie come dicevamo il programma delle iniziative è fitto alle 17.30 esibizione della banda di Ancarano alle 21 la stessa banda diretta dal maestro Francesco Albertini proporrà un concerto di marce sinfoniche mentre alla mezzanotte appunto con ritrovo su Ponte San Ferdinando la conclusione con i fuochi pirotecnici ma c'è anche la processione alle ore 19.30 i parcometri in centro storico strisce blu si paga anche con il Bancomat e poi ancora verde in città lungo fiume del Vezzola parco da valorizzare parte l'intervento su ingressi e casette ci saranno due locali per ristoro educazione ambientale il sindaco d'alberto che dichiara abbiamo un progetto strategico per la città scontro tra macchine feriti due fratelli a Campli mentre a Teramo fratelli d'Italia appoggerà la grande alleanza verso il voto del 2023 il coordinamento regionale conferma il patto nel centro-destra Isola di Gran Sasso si ribalta con la macchina c'è un ferito l'uomo non è grave soccorso con l'elicottero atterrato come vediamo nella foto proprio nel piazzale del santuario di San Gabriele ancora la storia i cervelli che restano ricercatore teramano del CNR a capo di un progetto nazionale il 37enne originario di Nerito di Cronialeto si occupa di un piano finanziato con 32 milioni di fondi PNRR sono rimasto in Italia perché credo nella possibilità e nelle professionalità che ci sono nel paese l'opportunità dei bandi un'attenzione al personale specializzato Montorrio in 15 mila alla mostra di Andy Warhol domani l'ultimo giorno per visitare la rassegna ospitata nei locali dell'ex convento degli zoccolanti Giulianova domani torna la decorazione dei contatori acqua luce fuoco i colori della tradizione Giulianova torna l'appuntamento con l'insolita rassegna di pittura pensata e organizzata dal circolo culturale il nome della rosa con il patrocinio del comune di Giulianova si terrà la manifestazione domani e si avvale della collaborazione di jazz crew orao ed eventi rosa acqua luce e fuoco spiegano gli ideatori nuanote un progetto artistico che va avanti da 12 anni castelli campo di calcio intitolato la memoria di guerino di stefano il calciatore allenatore scomparso ancora per quanto riguarda le altre notizie che arrivano dalla costa sicurezza e controlli appunto sulla costa vigili urbani ancora senza pistole salta il turno di servizio notturno a Tortoreto slitta l'allestimento dell'armeria ad alberi adriati che è in ritardo la procedura per assegnare le beretta entro il 10 luglio operativo il presidio estivo di polizia sopra il luogo della questura nei locali di via bafile ex consorzio agrario ad Ancarano il comune dà il via all'asta per la vendita mentre a Tortoreto commissioni c'è il via libera del consiglio eletti presidenti e componenti degli organismi nella seduta di insediamento del piccioni bis le notizie che arrivano da Martinsicuro la prima è quella che sono pronti tre bagni pubblici con docce sulla spiaggia libera installazioni per agevolare i turisti e poi la fotonotizia in piazza Cavour i cittadini riparano panchine e cestini e vediamo appunto la foto nelle brevi Alba Adriatica anticipato l'incontro con lo scrittore Rapino è stato anticipato a martedì alle 21.15 al parco di Villa Flaiani ad Alba Adriatica l'incontro promosso dalla biblioteca Domenico Pantone dall'amministrazione comunale con lo scrittore Remo Rapino vincitore del premio Campiello 2020 Martinsicuro spettacolo teatrale sul lungomare oggi alle ore 21 con la rappresentazione il gioco dell'epidemia la pagina dedicata a Giulianova opere pubbliche spesa di un milione accordo tra Ruzzo e Comune nuova rete fognante in via Trieste prevista anche un'altra linea idrica che da via Turati raggiungerà la popolosa strada per l'area dell'ex depuratore definito il passaggio dei terreni dalla società all'amministrazione politica fratelli d'Italia in maggioranza Francioni Matteo Francioni sarà assessore la partecipata del Comune Giulia Rete ha approvato il bilancio lascia però l'amministratore Luca Gentile che ha concluso il mandato alla guida della società Pietra d'Inciampo per l'artigliere cerimonia in via Traversa Mari memoria del militare internato messa a Mosciano la pagina dedicata a Roseto Maxi Antenna scatta la diffida al Comune e alla Prefettura siamo a Colonia Spiaggia con la mobilitazione da parte dei residenti che si affidano a un avvocato per bloccare la sistemazione dell'impianto di telefonia alto 26 metri ora vogliamo sapere se l'amministrazione si sia dotata di un piano che è obbligatorio dal 2005 cade dalla scala operaio ricoverato in ospedale non è grave mentre ancora per quanto riguarda la cronaca investita sulle strisce pedonali donna di 85 anni travolta sul lungomare ricoverata in ospedale con una frattura firmato il provvedimento ordinanza del sindaco ok al circo solo senza animali nuovi parcheggi i balneatori ringraziano la giunta dopo la riapertura dell'area ex Castelli mentre a Colonia Spiaggia albero legato al palo del semaforo è spuntata una creazione artistica a Colonia Spiaggia sulla statale 16 nei pressi della rotonda una pianta per evitare che cadesse è stata legata al palo del semaforo non ancora rimosso dopo 4 anni dallo smantellamento dello stesso impianto semaforico questo a Colonia Spiaggia la pagina la pagina dedicata ad Atri Pineto e Silvi comunque la costa nella zona più a sud addio allo storico imprenditore Osvaldo Vallescura a Silvi ha creato e guidato un'agenzia di onoranze funebre diventata punto di riferimento sul territorio Cerrano pronta la navetta per evitare soste in divieto il bus farà la spola tra parco marino e parcheggio di una struttura commerciale l'area sarà messa a disposizione gratuitamente una ditta gestirà i collegamenti Silvi il consiglio comunale richieste di atti al comune varato il nuovo regolamento Scuola Radici siamo ad Atri pronto il progetto per la nuova palestra la giunta appunto approva l'intervento mentre tornando a Silvi il tavolo del centro-sinistra per lanciare la sfida elettorale il programma delle esposizioni siamo a Pineto Villa Filiani al Via Mostre fino al mese di settembre sempre a Pineto 78enne trovato morto nella casa di riposo noi scorriamo le pagine del quotidiano il centro e arriviamo all'inserto dell'Aquilone Verdone a Pescara Felice del Pegaso al mio caro libro serata dei premi Flaiano per Italianistica e Narrativa l'attore è in città Valérie Perrin fermata dal Covid questo appunto importante appuntamento per questa sera con Carlo Verdone al premio Flaiano ancora per quanto riguarda altre notizie soprattutto per quanto riguarda la cultura in Piazza Duomo ad Atri ecco incontri d'autore 12 serate con scrittori e giornalisti apre Riccardo Cucchi con il suo La partita del secolo Italia Germania 4 a 3 questo per quanto riguarda il prossimo 12 luglio a partire dalle ore 21 in Piazza Duomo ancora per quanto riguarda l'inserto dell'Aquilone a serata evento il 14 luglio prossimo ad Alba Adriatica si balla sulla spiaggia con i miti degli anni 70 80, 80 e 90 Convertini presenta musica sotto le stelle festa per il 66esimo compleanno della città con Fiordaliso Alberto Camerini Ivan Cattaneo Giosquillo e il biondo Sandy Marton ancora per quanto riguarda l'Aquilone ma ci trasferiamo anche alle pagine dello sport con il calcio di serie C Pescara ecco due rinforzi arrivano Milani e Chiorra il DS dell'Icarri chiude per il terzino sinistro del Ponte d'Era il portiere dell'Empoli slitta l'arrivo di Della Latta De Marchi Valpadova Elizalde all'indipendiente poi c'è anche una notizia che riguarda un calciatore di Roseto ovvero Jacopo Dezzi che finisce nel mirino del Crotone e quindi appunto si parla di mercato a tutto tondo per quanto riguarda lo sport Biancorossi senza pace Teramo bocciato la serie C si allontana la Covizoc respinge l'iscrizione per non aver rispettato alcuni parametri economici Chierchia pronti a fare ricorso entro mercoledì bisogna presentare il reclamo venerdì poi il verdetto finale del Consiglio federale per quanto riguarda il basket serie B il mercato Roseto Assalto a Sec e Santi Angeli Biancazzurri puntano anche Morici e Radonici resta Zampogna che conferma noi adesso ci fermiamo un attimo per qualche problema di natura tecnica andiamo a vedere le previsioni del meteo a cura di Marco Di Loreto e poi ritorniamo con la rassegna stampa Buon sabato a tutti configurazione barica ben collaudata ormai quella in atto spinta di corrente atlantiche verso la penisola eberica ed il Marocco e pronta risposta molto calda dal nord Africa e Mediterraneo con conseguente impennata delle temperature in questo specifico weekend saranno le due isole maggiori le regioni tirreniche ed in parte Francia e Spagna ad essere interessate dal grande caldo mentre nelle regioni orientali della nostra penisola affluiranno correnti settentrionali capaci di mitigare in parte la calura in Abruzzo avremo un sabato ma più in generale un weekend all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso in tutti i settori e per tutto il giorno la ventilazione sarà debole dai quadranti settentrionali ed il mare calmo quasi calmo ovunque le temperature diminuiranno di qualche grado le massime saranno comprese tra 28 e 34 gradi e le minime della prossima notte tra 16 e 23 gradi per il metro è tutto a questa sera per le previsioni per domenica riprendiamo allora la segna stampa con eravamo alle pagine dello sport dunque abbiamo detto biancorossi senza pace teramo bocciato la serie C si allontana la Covizoc respinge l'iscrizione per aver rispettato alcuni parametri economici con Massimo Chierchia pronti a fare ricorso Massimo Chierchia che è ancora amministratore unico del club biancorosso perché l'assemblea dei soci poi ieri è stata rinviata al prossimo 9 di luglio entro mercoledì bisogna comunque presentare il reclamo venerdì poi il verdetto finale del consiglio federale che comunicherà le società ammesse e quelle escluse il basket serie B il mercato Roseto assalto a Sec e Santiangeli i biancazzuri puntano anche a Morici e Radonic resta Zampogna appunto che è stato confermato volle giovanile trofeo delle regioni l'abruzzo maschile promosso nella pool A mentre la nazionale femminile è a Casteldisangro e ha giocato con la Spagna per quanto riguarda appunto Little Don finisce 1-1 il test contro le iberiche il calcio femminile che entra a far parte del mondo dei professionisti entriamo allora adesso a parlare del quotidiano il messaggero con il titolo d'apertura che riguarda il covid 30.000 contagiati ma è così tanti infetti da inizio primavera brusco aumento dei ricoveri e dei focolai l'emergenza certificata dall'Istituto Superiore di Sanità pressing per il ritorno obbligatorio delle mascherine nei titoli sotto la attestata a Teramo sull'orlo del Baratro e parliamo di sport bocciata l'iscrizione alla C la Covizoc ha escluso il club non in regola con l'indice di liquidità ricorso entro il 6 luglio verdetto finale appunto nel Consiglio federale dell'otto crescono i fallimenti si teme il boom in autunno il rimando di economia sulla prima pagina e poi ancora incidente in Svizzera muore motociclista la vittima Alessio Dorigo 27 anni di Ortona si era trasferito all'estero per motivi di lavoro ancora le pagine interne del Codiano il messaggero lotta l'epidemia covid nuovi dati shock 30.000 contagiati ma i tanti positivi da inizio primavera tornano a crescere anche i ricoverati si moltiplicano i focolai nella regione emergenza sancita dell'istituto di sanità Roma Pescara la variante incassa l'ok della regione qui in questo caso però non riguarda il covid ma riguarda le ferrovie dello Stato la variante ancora per quanto riguarda le pagine dedicate a Teramo smalto al parco fluviale al via i lavori per il restyling dell'area il concetto la base dell'intervento è la città verde nella città consegnato il cantiere l'opera sarà finita entro pochi mesi verrà ricostruita anche la casetta ma l'intervento sarà avviato solo a settembre tutte le fasi appunto del lavoro il sindaco d'Alberto ha portato ieri saluti del comune ai nuovi assunti 72 unità arrivate da vari concorsi costretta a chiudersi nel bar per sfuggire all'ex violento questo per quanto riguarda la cronaca e poi ancora ricostruzione nuovi bandi benefici anche per il teramano case di riposo e sindacati in pressing sugli stipendi venduto lo storico hotel Palace siamo a Giulianova l'immobile con lo chalet acquistato dalla famiglia Fardellini verrà trasformato in un albergo boutique per clienti raffinati il complesso ricettivo sarà completato con un ristorante che resterà aperto tutto l'anno 12 mesi per riaprire intanto la giunta municipale ha approvato anche il progetto del costruttore Mucciconi Silvi l'incendio in collina spento a fatica danni ingenti l'origine forse è dolosa le fiamme arrivate al ridosso delle case e di un impianto fotoelettrico a pannelli solari Roseto operaio edile cade dalla scala nelle accantiere e grave in ospedale e poi ancora un piatto decorato con le carte a pupo imbarazzo del cantante ex ludopatico l'episodio a Castelli al termine di un'esibizione l'artista ha invitato più volte il suo pubblico a tenersi lontano dal gioco d'azzardo questa la sua storia gli sportelli dei contatori diventano opere ed arte a Giulianova mentre a Tortoreto musica latina sul lungomare le pagine dedicate allo sport Teramo la Covisoc boccia l'iscrizione ad oggi il club fuori dalla C tempo fino a mercoledì per il ricorso l'ultima parola aspetterà il consiglio federale che si riunisce l'8 luglio come preventivato ha pesato la mancata regolarizzazione rispetto all'indice di liquidità va stese vicino il passaggio all'imprenditore Di Stefano siamo al calcio di Serie D chiedi aspetta il misterioso imprenditore dalla capitale mentre per quanto riguarda l'eccellenza sante Gidiese da record dell'ora delle ambizioni dopo un campionato senza sconfitte la società è già al lavoro abbiamo visto anche ieri i nostri spazi informativi che è arrivato anche il primo innesto Lander Fiscaletti Andrea Fiscaletti classe 2004 reduce da un'ottima annata Grotta Mare in eccellenza nelle Marche con questa notizia si chiude la rassegna stampa ma non l'appuntamento con di prima mattina perché vi volevamo mostrare delle immagini relative al concerto all'alba che di fatto ha aperto al Parco Fluviale le manifestazioni per quanto riguarda la rassegna Natura Indomita questa mattina proprio alle 6 è iniziato questo concerto come potete vedere anche tanto pubblico al Parco Fluviale per assistere proprio a questo concerto all'alba che è solo una delle tante manifestazioni all'interno della rassegna Teramo Natura Indomita e dunque ovviamente nel corso dei nostri spazi informativi vi proporremo un servizio in merito queste sono immagini girate veramente pochissimi minuti fa il concerto che è iniziato attorno alle ore 6 e allora finisce qui questo appuntamento di di prima mattina ringrazio Pietro Baldassarre in regia noi ci rivedremo tra poco a breve alle 9 a Bellante per lo spazio dedicato ad accolazione ospite sarà Flavio Pistilli direttore tecnico di fare arte e affronteremo l'argomento appunto l'attività di fare arte è un'attività corposa a tutto tondo che in questi giorni anche è impegnata con i saggi di fine anno ricordo gli appuntamenti alle 14 alle 19 con le due edizioni in diretta del telegiornale grazie per averci seguito buon fine settimana grazie a tutti